Davide, dici tu di che cosa parleremo. Guarda Francesca, l'idea iniziale di questa serie era quella di parlare di formule, pezzi di matematica, pezzi di fisica, modelli che nati nella teoria hanno avuto un impatto sostanziale sulla maniera in cui ci poniamo in relazione col mondo, la società, con la politica, l'economia e tutto il resto. Ora, la settimana scorsa, o meglio l'ultima volta che non era la settimana scorsa, abbiamo deviato un po' per ragioni contingenti, abbiamo parlato di bosoni di chi, ma oggi ci tenevo a tornare sul pratico, in particolare a tornare su uno dei due grandi temi tecnico-scientifici di cui si parla tanto negli ultimi anni. Il primo sono le pandemie, i batteri antibiotico-resistenti, tutta questa biocosa. L'altro, che forse è ancora più ampio, rumoroso, sentito, discusso, dibattuto da tutti in ogni direzione politicamente, non perché tutto sommato le pandemie quando finiscono cerchi di rimuoverle un po' psicologicamente, mentre di questo si parla da tanto e si parlerà di più nel futuro, naturalmente mi sto riferendo al cambiamento climatico. E come a questo punto saprete, io mi sono occupato di fisica teorica, quindi di cose, fisica teorica e delle alte energie in particolare, quindi cose molto piccole, molto più piccole dell'atmosfera terrestre. Quindi il mio rapporto con la scienza del cambiamento climatico non è di ricerca diretta, ma una cosa interessante in fisica, e quindi anche questo è uno dei messaggi che voglio passare, è che talvolta tu puoi prendere dei pezzi e trasferirli di qua e di là. La matematica è in qualche modo un linguaggio universale per organizzare regolarità. Quindi capita che la meccanica statistica ti torni inutile analizzando l'andamento di titoli in borsa e lo stesso vale per i modelli di easing applicati alle dinamiche di popolazione e in questo caso parliamo di una branca della matematica e della fisica che ha davvero tanto a che fare col cambiamento climatico, col clima in generale. La teoria del caos è, ho fatto un super preambolo per arrivare proprio al punto da cui vorrei partire, che ha una domanda che tutto sommato io credo che ci siamo posti tutti e che sia sano porsi. Perché da un lato noi sentiamo parlare di cambiamento climatico al 2050, al 2070, al 2100, al 2150. E dall'altro guardiamo le previsioni meteo sul nostro telefono e a 4-5 giorni, c'è chi dice 50% a 10, perdono completamente di efficacia. Anche nella stessa giornata, anche nella stessa giornata, le fluttuazioni sono imprevedibili. Perché noi possiamo parlare di clima ma non di meteo a distanza di tempo, di tanto tempo? Perché possiamo parlare di meteo solo a distanza di giorni e di clima? Che in qualche modo col meteo ha a che fare anche a distanza di 10, 20, 30, 50 anni. Quindi oggi vorrei un po' affrontare questa domanda, se sei d'accordo. Assolutamente sì. Assolutamente. E allora io comincerei mettendo un po' sul tavolo le questioni. Ovvero, cosa intendiamo per previsioni meteorologiche? Adesso lo faccio proprio Leiman, non sono un tecnico, non vado sul tecnico, chiarisco solo le parole che abbiamo intenzione di usare. Per previsioni meteorologiche noi ci riferiamo letteralmente, in questo caso usato con coscienza, a quelle cose che ci dicono se ci sarà sole, ci sarà pioggia, ci sarà nebbia, ci sarà neve. In particolare, oggi io sono interessato alle previsioni di temperatura. Quindi quale sarà la temperatura in un certo punto della Terra. Ci basta questo. Poi, se ci metti in mezzo tutte le altre variabili, le cose si fanno infinitamente più complicate, ma ci rifacciamo a questo. Ora, non è del tutto onesto dire che le previsioni meteorologiche sono fisse a pochi giorni. Stanno migliorando nel tempo. Negli ultimi decenni, con la nostra capacità di costruire modelli e di usare computer più potenti, siamo diventati un po' più bravi a prevedere. Poi, quello che ci arriva nei telefoni, che non tutto questo sia disponibile per le masse, va ben tutto, ma siamo diventati un po' più bravi a prevedere che quanto caldo sarà in un certo posto, in un certo giorno. Come accennavo prima, c'è una stima di un'agenzia governativa americana che, facendo controlli a posteriori, quello che devi sempre fare quando fai delle previsioni, confrontare ciò che avevi previsto con quello che poi è effettivamente accaduto, ha più o meno stimato che a dieci giorni di distanza si becchi la temperatura al 50% delle volte, con un errore ragionevole. Quindi questa è più o meno l'efficacia a cui siamo arrivati. E, francamente, non c'è troppa differenza tra l'individuazione del percorso dei cicloni, la loro intensità, dove spunteranno tutti questi fenomeni che sono di grande interesse per chi naturalmente si occupa di meteorologia, ma anche per chi pianifica banalmente una spedizione, una missione di navigazione, un'operazione militare o un concerto. Quindi l'impatto con la nostra vita è assolutamente diretto, per non parlare dei cosiddetti eventi meteorologici estremi. Quando parliamo di clima parliamo di una cosa un pochino più ampia. Guardiamo, facciamo un passo indietro, finora siamo rimasti piantati nei punti specifici, qui facciamo un passo indietro e guardiamo le temperature medie, o ben del pianeta, o di regioni molto grandi della Terra. Quindi oggi intendiamo questa cosa in termini di questo tipo, no? Quindi meteo è una cosa più incasinata, con più variabili, locale. Parliamo di clima se facciamo un passo indietro, guardiamo le cose con una certa distanza. Ovviamente poi non tutti definiscono le parole nello stesso modo, ma facciamo a capirci ed è per questo che è importante mettere le parole in ordine all'inizio. Sapete tutti che di cambiamento climatico si parla molto negli ultimi anni, abbiamo detto anche in apertura. Negli ultimi tre anni, se non sbaglio quattro ormai, hanno iniziato nel 2020, credo nel 2021, sono usciti pian pianino i vari report del sesto assessment report dell'IPCC. Credo a marzo 2023 è uscito il summary di tutto il lavoro dei tre gruppi di lavoro dell'IPCC, che sono poi divisi in macro mix, cioè un caos burocratico di cui io non capisco un tubo e francamente non è nemmeno la mia materia. Mi è uscito, lo sapete, che è molto interessante ed è interessante sfogliarlo perché appunto contiene delle proiezioni, delle analisi d'impatto, delle stime di quello che accadrà implementando certe policy di decarbonizzazione, di riduzione delle emissioni, emissioni clima alteranti, parliamo di CO2, parliamo di metano, di una serie di cose, adesso senza entrare proprio nei dettagli chimici che non ci riguardano, di fisica della Terra o come li vuoi chiamare, che non ci riguardano oggi. La cosa interessante però è guardare l'asse X di questi grafici, perché l'asse X di questi grafici spesso arriva al 2050, al 2100, e quindi la domanda che poi naturalmente l'incertezza su queste proiezioni si allarga un po', ma confrontare quel 2100, quei dieci giorni del meteo, fa un po' specie, ti viene da chiederti se ci sia anche solo un po' di senso in questa roba, no? Perché se non mi sentire se piove. Ecco, per affrontare questo problema io suggerirei, questa è proprio metterla sul tavolo, di fare un passettino in dieta e introdurre una cosa che in filosofia prima, in fisica e filosofia della fisica poi, chiamiamo ai crononauti, che è la parola con cui mi riferisco agli iscritti al mio canale, i viaggiatori nel tempo, ai crononauti che ci ascoltano, sottolineo che sono riuscito a tirare fuori la filosofia della fisica anche qui con la povera Francesca che è costretta. No, no, che assolutamente. No, per sentire cose di cui non so assolutamente nulla, perché comunque imparo, quindi... Ma sono abbastanza sicuro che questa parola tu l'abbia sentita nominare. Determinismo. Sì. All'inizio una volta. E nella tua disciplina, il determinismo, chi si occupa di filosofia della giurisprudenza, il determinismo è importante, perché ha a che fare con il libro arbitrio, con la cocazione, quindi c'è un overlap qui di... Assolutamente, è vero. Il determinismo è una cosa antichissima, che possiamo riassumere nell'idea che il passato determini in modo inequivocabile, non ambiguo e privo di margine d'errore, il futuro. Il passato fissa il futuro, senza spazio di manovra. Non c'è spazio per liberi arbitri, non c'è spazio per errori, non c'è spazio per sorprese, novità o meraviglie in un universo deterministico. Poi la domanda, naturalmente, questa è la più importante, è il nostro universo è effettivamente deterministico? Noi abbiamo già parlato di meccanica quantistica nelle puntate precedenti. E la meccanica quantistica effettivamente, quantomeno per come la capiamo oggi è il netto di potenziali interpretazioni un po' particolari, sembra mettere un po' di pressione a quest'idea del determinismo forte. Sembra metterla un po' all'angolo di ok, forse c'è qualcosina da ritoccare. Però questo non ci riguarda oggi, perché oggi siamo interessati solo al mondo su scale molto più grandi, su quelle che abitiamo. Noi stiamo parlando di clima e meteo, e quando parliamo di clima e meteo, di esseri umani, di tifoni e piogge, non abbiamo bisogno della meccanica quantistica. Ci basta la cosiddetta meccanica classica, la fisica che nasce con Newton e a cui poi aggiungiamo l'idrodinamica, la cinematica, poi l'idrodinamica, la termodinamica, l'elettromagnetismo classico di Marx, tutte quelle cose che si studiano alle superiori quando si fa fisica. Quella fisica classica. E la fisica classica, quindi al netto di quello che poi succede nel mondo microscopico, è deterministica. Ok? In fisica classica, una volta che tu hai fissato le cosiddette condizioni iniziali del tuo sistema, con assoluta precisione, i numerini che ti servono per specificare in che configurazione, in che stato, diremmo noi, è il tuo sistema all'inizio, allora hai una e una sola, a patto naturalmente di conoscere le leggi della fisica, una e una sola evoluzione nel tempo. Quindi mi sai dire dove sarà tra un minuto, due minuti, cinque minuti, dieci minuti, venti minuti, un giorno, diecimila anni. Ok? Questo ovviamente ti richiede di avere il controllo di tutte le condizioni iniziali, di tutte le leggi della fisica e del fatto che il tuo sistema sia isolato, quindi è una cosa che funziona molto bene in teoria, funziona un po' meno bene in pratica. Nel senso che adesso vedo, sì, ho un righello, quando noi usiamo un righello per fare... Questo passa spesso in sordina perché lo si discute all'inizio dei corsi di fisica, sia all'università che al liceo. Quindi si sottovaluta un po' l'importanza, soprattutto quando non ci si lavora, di questa cosa. Ma quando noi misuriamo la lunghezza di un oggetto, c'è sempre un errore di misura. In questo caso, di un millimetro, le tacchette sono un millimetro d'una dall'altra. Ok? Quindi quando io voglio misurare la lunghezza di... Fai conto, questo pezzetto di carta, ti dirò che è lungo, guarda. 6,6 più o meno un millimetro. Ok? Se la lunghezza di questo pezzetto di carta è coinvolta, e tipicamente lo è, quando voglio studiare la sua evoluzione nel tempo, ad esempio il modo in cui cade quando lo lancio casualmente sulla scrivania, dicevo, se la lunghezza è coinvolta nella dinamica che determina poi come il pezzetto di carta si evolverà nel tempo, allora io ho già capito che quell'immagine diciamo idealizzata che abbiamo messo sul tavolo prima non funziona più. Perché quando poi vai a fare le cose nella pratica, tu non puoi conoscere con esattezza lo stato iniziale di un sistema. C'è sempre, al di là degli errori umani, sistematici, quelli ci sono sempre, ma anche facendo le misure migliori possibili, i tuoi strumenti di misura hanno una sensibilità sotto la quale la tua bilancia misurerà i decimi di chilo, i centesimi di chilo, o i millesimi di grammi, però va più giù di lì. E quindi tu non puoi sapere con esattezza la massa di una cosa che stai misurando, c'è un piccolo numero di misura. Quando il righello ti dice che una cosa è 6,6, in realtà ti sta dicendo che è più di 6,5 e meno di 6,7. Ok. Quindi c'è il range, praticamente. Sì, di solito più o meno un millimetro perché il righello ha le tacchette di un millimetro. E quindi nella pratica noi non possiamo sapere con esattezza le condizioni iniziali dei nostri sistemi, nemmeno in fisica in fisica classica. A questo si aggiunge un altro fatto. Qui prendo una piccola deviazione e poi torniamo a queste cose un po' pratiche. Anche volendo noi non potremmo mai prendiamo le misure di lunghezza. Questo vale per le misure di massa, di lunghezza, di ca... Tutte le misure. Quindi tutte le misure hanno un errore. Ma diciamo che al di là dei righelli che usiamo oggi è possibile misurare una lunghezza con precisione assoluta? Almeno teoricamente non nelle misure pratiche che facciamo. No? Ma potremmo magari un giorno con una tecnologia particolare riuscire a misurare la lunghezza di un oggetto con assoluta precisione? La risposta è no. e ha a che fare con una cosa che abbiamo menzionato credo molto brevemente in una delle puntate precedenti. Ovvero e tu fermami se non sono chiaro. Ovvero col fatto che... Sto pensando a qual è la cosa che abbiamo menzionato. Prima. Vedi che poi tornano la fisica è un edificio bellissimo che si costruisce su... Il... Ah, bisogna sto l'impegno tutta quella roba. Il... Quando tu vuoi si dice risolvere per osservare una cosa di un millimetro significa avere uno strumento che risolve i millimetri la risoluzione della macchina fotografica. La macchina fotografica risolve certe lunghezze, no? Per risolvere la risoluzione si viene lì. No, vabbè. Adesso ho realizzato negli ultimi dieci secondi mentre parlavo e penso a fin di sapere di non aver fatto solo perché la macchina fotografica davanti. Il... Per risolvere lunghezze via via più... Scali di lunghezza via via più piccole tu hai bisogno di energie via via più alte. Ok? È quello che facciamo con gli acceleratori di particelle. Con gli acceleratori di particelle noi diamo energia per risolvere la fisica su scale piccole piccole piccole. E quando fermiamo e potenziamo il CERN l'LHC al CERN lo facciamo proprio per avere più energia nei nostri esperimenti e quindi vedere cose più piccole. Questo si può a livello euristico a che fare col fatto che banalmente la luce tu sai che la luce ha una frequenza. No? Il rosso ha una frequenza bassa il blu ha una frequenza alta. Il violetto e poi l'ultravioletto e più energia metti nella luce più vai verso le alte frequenze. No? Quella è l'energia della luce a che fare con la frequenza. ecco la frequenza banalmente tanto più alta è la frequenza tanto più piccola è la cosiddetta lunghezza d'onda della luce. La luce rossa o le microonde fanno così la luce violetta o ultravioleta fa così e quindi risolve lunghezze piccole perché oscilla tante volte in uno spazio piccolo e quindi la puoi usare per vedere cose piccole se ce la fai sbattere il conto. Non so se l'intuizione aiuti però questa idea della luce che più energia ci metti più sale in frequenza quindi riduce la lunghezza d'onda è più o meno quello che succede negli esperimenti ti dà un po' un limite di quello che puoi misurare negli esperimenti. Quindi misurare con esattezza la lunghezza di un pezzetto di carta significa avere una risoluzione infinita e hai bisogno di energia infinita per misurare con esattezza la lunghezza di un pezzetto di carta. È talmente piccolo che... Solo che cosa succede che tu inizi ad alzare... Diciamo che ci puoi pure andare verso tu hai il tuo acceleratore di particelle con una bella manopolona inizi a girarla inizi a girarla giri aumenti l'energia aumenti l'energia lunghezze sempre più piccole energia 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 lunghezze piccole 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 e poi a un certo punto succede che hai messo abbastanza energia in uno spazio abbastanza piccolo da ottenere un buco nero e quindi hai finito. No ma la fisica ti dice questo tu aumenti l'energia aumenti l'energia perché vuoi ridurre l'errore e a un certo punto ne hai messo abbastanza in uno spazio abbastanza piccolo ad avere un buco nero totalmente tanta energia sì e a quel punto se pumpi altra energia il buco nero inizia a crescere e quindi c'è proprio un limite alle lunghezze che puoi risolvere con gli esperimenti quindi più in là di così non si può andare è molto piccolo siamo molto lontani da lì però ecco ogni volta che misuriamo qualcosa c'è un errore ok ma per fortuna altrimenti non potremmo fare fisica quando ci occupiamo di pendoli o automobili o molle o proiettili palline che cadono carretti che scivolano su piani inclinati senza attrito tutte queste cose che abbiamo che abbiamo studiato fatto su che abbiamo fatto strani problemi alle superiori quando ci occupiamo di queste cose dicevo vale più o meno una certa regola che è se tu hai una piccola incertezza all'inizio alla fine trovi una piccola incertezza quindi puoi fare una previsione sul futuro non esatta ma più o meno approssimata quindi parti da una misura approssimata e arrivi a una predizione approssimata che funziona quindi nella gran parte dei casi in fisica classica vale naturalmente il passato fissa il futuro ok quindi dal passato hai il futuro ma dal passato approssimato nella maggior parte dei casi hai il futuro approssimato quindi un piccolo errore sul passato è un piccolo spazio di manovra sul futuro certo ho detto nella gran parte dei casi perché ci sono situazioni in cui questa cosa qui non vale ed è di questo che si occupa la teoria del caos bene la teoria del caos ora vediamo se lo trovo perché ho preparato delle piccole animazioni per me le tengo qua perché tra poco te le mostro noi chiediamo che sta teoria del caos poi viene menzionata da tutte le parti no? da tutte le parti ma noi adesso abbiamo una e quindi non si chiama cos'è sto caos soprattutto se la lasciamo stare la fisica quantistica stiamo nella fisica classica se abbiamo detto che la fisica classica è deterministica dove sta il caos? dov'è la teoria del caos? cos'è il caos? il caos ti dà l'idea di una cosa che non puoi prevedere di un casino di un mistero ecco chiamiamo caotici tutti quei sistemi in cui naturalmente il futuro il passato preciso prevede il futuro preciso perché questo deve valere sempre ok? perché la fisica le leggi sono deterministiche quindi non scappa certo ma chiamiamo dicevo caotici quei sistemi in cui il passato approssimato non ti permette di prevedere il futuro approssimato dove gli errori esplodono la riformulo in un'altra maniera perché la fisica non ti dice non c'è nessuna garanzia che gli errori restino piccoli no? tu la fisica ti garantisce solo che se hai un punto di partenza esatto hai un punto d'arrivo esatto poi nella gran parte dei casi siamo fortunati e quindi se hai un punto di partenza con un piccolo errore hai un punto di arrivo con un piccolo errore ma questo la fisica non te lo garantisce e ci sono sistemi in cui questo non succede in cui una imprecisione di un millimetro all'inizio si traduce in un'imprecisione di centomila chilometri alla fine questi sistemi e qui ti dicevo te la riformulo sono tutti sistemi molto sensibili a piccole variazioni delle condizioni iniziali e se tu cambi leggermente il punto di partenza ottieni un punto d'arrivo completamente diverso e quindi capisci che se sono particolarmente sensibili alle condizioni iniziali quel margine di manovra che avevi all'inizio potrebbe produrre risultati completamente diversi alla fine no? questo è quasi banale una volta che l'abbiamo messo sul tavolo è quasi banale o ha perturbazioni no? sono tutti quei sistemi in cui una piccola perturbazione magari dall'esterno magari perché poi anche lì noi abbiamo questa idealizzazione del sistema isolato no? che quindi possiamo studiare perché conosciamo ma nella natura in natura non ci sono sistemi isolati anche se sei bravissimo un po' di disturbo dall'esterno arriva per forza è inevitabile quindi anche se hai il tuo bel laboratorio ti arrivano i raggi cosmici i neutrini che ti attraversano il corpo costantemente tutto il giorno vale per te vale per me e quello è e i neutrini interagiscono molto poco ma c'hai fotoni lì atomi di idrogeno che vagano hai un po' di tutto e non puoi fare un vuoto vero piccola parentesi al CERN creano il vuoto più vuoto dell'universo per quanto ne sappiamo nel senso che l'HC è più vuoto dello spazio vuoto wow e hanno applicato tecnologie che vengono dalla mongitura delle mucche perché devi creare il vuoto per tirare fuori il latte no? quindi hanno applicato cose della mongitura no vabbè questa non la sapevo geniale è un po' come quella cosa dei vestiti no? che li impacchetti sotto vuoto ecco la roba lì la fanno dalla mongitura perché crea il vuoto e il latte esce e quindi poi cose che si tracce poi questo è un po' il folklore dei fisici queste cose queste leggende no queste cose in trippio non si accolano ma anche ha conosciuto questi delle mucche ma tutta una roba magari una volta facciamo i dieci aneddoti strani va bene è anche bello buttarli però così un po' come il prezzetto in giro le tracce le tracce il nel mondo vero non solo abbiamo errori di misura ma abbiamo anche influenze dall'esterno quindi tutti questi sistemi che o ben sono sensibili alle condizioni iniziali o alle perturbazioni di solito sono quasi sinonimi le due cose fatichi a prevedere come si evolveranno nel futuro adesso ti faccio un piccolo esempio ti mostro vediamo se riesco a condividerlo c'è anche una domanda Davide quando vuoi sparmela pure sparmela pure chiede a Kim intanto grazie a Vale Pisa per l'abbonamento le particelle virtuali che lo spazio tempo stesso crea nel vuoto sono state scientificamente provate o sono solo una teoria no allora è roba abbastanza standard nel senso che noi però non è nessuna delle due cose in realtà le particelle virtuali create nel vuoto sono una prossima allora sono una maniera approssimata di parlare di una cosa diversa che sappiamo che effettivamente succede quindi la cosa in questione succede ma non si tratta davvero di particelle che vengono create nel vuoto ok è una roba un po' diversa un po' più complicata quella è una maniera se ne parla molto anche in divulgazione ma anche nei libri di fisica viene usata un po' come euristica però è un euristica non è una cosa vera ti chiedo perdono se guarda ma mi devo fare due unità di insulina il evito di schiopparti ora no no tu fai tranquillo non ti preoccupare cioè quello che vuoi ti mostro una cosa vediamo se ci riesco eccoli qua perché uno adesso prima di mostrarlo prima di mostrarlo l'ho messo qua in sala d'attesa ma prima di mostrarlo ti spiego ti spiego cos'è il sistema caotico quindi molto sensibile alle condizioni iniziali più noto più semplice è il cosiddetto doppio pendolo il doppio pendolo voi avete presente il pendolo sta roba qua ok un doppio pendolo è niente più e niente meno vediamo se indovini cos'è un doppio pendolo un doppio pendolo si se il pendolo è il pendolo cos'è un doppio pendolo no ti sto per dire una cosa stupida però vai saranno due cose no è l'altra opzione avevi due cioè era 50-50 no ecco un altro pendolo ah ok non ci attacchi sotto un altro pendolo quindi si può muovere ok sono due pendoli ok il doppio pendolo ideale quindi trascuriamo le masse dei bastoni faccia tutta sta roba qua è l'esempio più facile di sistema caotico quindi mentre il pendolo singolo è super semplice non puoi prevedere il singolo doppio è incredibilmente sensibile alle condizioni iniziali e quindi qui io vi ho simulato una cosa vi ho simulato due doppi pendoli lunghi un metro con masse di un chilo nell'accelerazione gravitazionale terrestre 9,81 metri al secondo quadrato che partono uno a 90 gradi e uno a 89 gradi ok quindi proprio condizioni iniziali molto molto vicine se riesci a buttarlo dentro vediamo se funziona eccolo qui vedi sono partiti rosso e verde guarda che succede molto rapidamente ecco un grado di differenza e tu non capisci se la tua misura tu stai lavorando col rosso ma l'errore sulla tua misura ti dà il verde no? all'inizio partono proprio identici il capisci se quel grado è l'errore sulla tua misura tu già qui hai perso potere predittivo sì è andata non puoi dire sostanzialmente più niente tu mi dici sì vabbè ma magari un grado è troppo e allora adesso esagero te lo mostro con mezzo grado rimuovi dallo studio adesso te lo mostro ovviamente uno deve strafare quindi adesso te lo faccio anche col mezzo grado 90 gradi e 89 e mezzo che onestamente misurare 89 e mezzo e 90 è molto difficile ce l'hai qua su vado guarda li sono praticamente appiccicati lasciano la scia questi poi li ho fatti tutti con matematica è un software di simulazione numerica e poi bellissimo andati persi niente fine e questi non sono nell'atmosfera non sono nell'aria quindi non ci sono i disturbi esterni questi sono davvero isolati quindi è solo solo la differenza di condizioni iniziali e questo è un esempio di sistema caotico i sistemi caotici sono un problema quando tu vuoi prevedere il futuro perché sono perfettamente deterministici ma piccoli piccole variazioni delle condizioni iniziali producono enormi variazioni dell'evoluzione di solito questa anche qui non vale sempre bisogna stare un attimo attenti ma approssimativamente gli errori crescono esponenzialmente nel tempo in questo caso è esponenzialmente usato con con scienza come figure come va proprio esponenzialmente quindi o ben raddoppiano o triplicano ogni secondo e quindi molto rapidamente salta tutto ora io ti ho pensato anche di lasciare un po' di spazio finale per le domande ma preparatevi il doppio pendolo il doppio pendolo tu mi dici sì vabbè ok facciamo fatica a prevedere come si evolvano i doppi pendoli pace no? cioè non è così utile sapere come funziona un doppio pendolo sì te la metti rosichi un po' perché da fisico vorresti vorresti spiegare però tutto sommato te la puoi mettere via il problema è che di sistemi caotici là fuori è pieno e uno di questi è forse il secondo o terzo sistema più banale e importante che possiamo voler studiare ora nel 1680 e qualcosa direi 87 però 9 non me lo ricordo l'anno in cui Newton purifica la pratica della storia naturale spero che la chat apprezzi il mio essere genuino poi arriverà qualcuno che sia 1687 sparo però potrei sbagliarmi si occupa di tante cose fonda la meccanica e risolve poi c'è la teoria della gravitazione la gravità di Newton questa cosa famosa f uguale g m1 m2 fratto r al quadrato quella cosa lì e Newton si occupa subito del cosiddetto problema a due corpi legati dalla trazione gravitazionale ad esempio la terra e il sole dai due corpi con una certa massa attratti che si attraggono per attrazione gravitazionale naturalmente nel vuoto pneumatico senza nient'altro hai delle condizioni iniziali vuol dire delle posizioni delle velocità iniziali dei due corpi e studi come si evolvono nel tempo questo si risolve non è un grosso problema adesso ti faccio una domanda vediamo se pensi come Newton una volta che hai risolto il problema gravitazionale a due corpi e cosa proverai a fare? qual è la prima cosa? tre corpi ad esempio il sole la terra e la luna è abbastanza importante anzi possiamo dire che è quasi una delle domande chiave della scienza no? io mi mi immagino dei sapiens come noi decine di migliaia di anni fa che guardano ma sto sole ma sta luna come si muovono nel cielo quindi è un problema proprio di quelli base di quelli ma quelli che hanno ispirato l'impresa scientifica ecco turns out che il problema gravitazionale a tre corpi è un sistema caotico quindi piccole variazioni delle condizioni iniziali producono enormi variazioni delle configurazioni finali e quindi noi non possiamo prevedere per tempi arbitrari il moto di tre corpi legati gravitazionali come quello che dicevamo quando abbiamo menzionato che ti avevo raccontato che avevo visto la serie del problema dei tre corpi e effettivamente poi c'è questo tema nella fisica questo è un tema è esattamente un tema poi poi e allora perché la terra e la luna non partono come il doppio pendolo perché il nostro problema poi non è nemmeno un problema tra i corpi perché abbiamo altri pianeti attorno quindi è ancora più un casino ma nel nostro caso il sole è così più massiccio della terra e della luna che le instabilità ci mettono un po' di più a esplodere ah ok però non sono totalmente inesistenti no 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 ci sono non è un'orbita ci sono piccole piccole instabilità e la luna si sta allontanando dalla terra banalmente pian pianino però un sistema a tre corpi così tipicamente tipicamente tenderà a divergere ad andare in direzioni bizzarre imprevedibili poi poi nel mondo della matematica dove tu puoi puoi controllare le condizioni iniziali con precisione assoluta poi tantissima gente si è si è divertita a studiare il problema dei tuoi tre corpi l'hanno studiato Lagrange l'ha studiato Poincaré l'ha studiato Euler l'ha studiato tantissime persone Poincaré in particolare è uno di quelli che hanno dato i contributi più importanti al problema dei tre corpi e ancor di più tanto di questo studio si è concentrato su configurazioni speciali quindi dicevo nel mondo della matematica in cui tu non misuri delle distanze delle posizioni delle velocità e delle masse nel mondo ma le puoi controllare e quindi puoi decidere esattamente dove stanno le cose e se hanno massa uguale ci si è divertiti a studiare problemi dei tre corpi ridotti come si dice in cui ad esempio tutti i tre corpi hanno la stessa massa quindi le cose sono più facili o controlli le distanze in modo particolare o no questo è un po' e quindi i matematici hanno effettivamente trovato alcune soluzioni periodiche quindi che si ripetono uguali a loro nel tempo però però questo vale nella misura in cui tu puoi configurare con esattezza le condizioni iniziali e noi sappiamo questo non ci stupisce tanto che un sistema caotico possa avere delle configurazioni periodiche sappiamo che restano deterministici il passato determina il futuro e quando puoi controllare il passato con precisione il problema è che nel mondo vero non puoi mai avere quella precisione che ti permette di metterti nella configurazione che ti dà il moto periodico dei tre corpi no perché te l'ho detto perché questi moti periodici sono particolarmente intanto interessante volevo togliere perché c'è questa idea che non ci possono essere invece no ci sono quindi possono esserci certo non ci riguarda nel mondo vero perché non potremmo mai avere la precisione infinita a meno di creare buchi neri grandi come l'universo perché con infinita energia crea un buco nero grande infinito per misurare le cose ma qua ti ho no scusami non è questa non è questa inserisco quando me lo dici tu guarda l'unico ah no cielo non posso non posso beh è l'unico vedi ecco lo faccio l'unica gif di oggi che non ho prodotto io e mi sta dando problemi questa banalmente la si trova su ma niente niente fammela cercare fammela cercare perché è troppo bella intanto ringrazio Akim che ha regalato cinque abbonamenti Akim è proprio un tuo fan comunque ogni volta arriva nella rubrica ed è felice gli mando un grandissimo abbraccio no su wikipedia c'è una bellissima gif adesso te la mostro perché ce l'ho che mostra un po' di soluzioni periodiche al problema dei tre corpi l'ho messo nello studio aggiungi aggiungi questi sono alcune bellissime del problema dei tre corpi con specifiche configurazioni di massa specifiche configurazioni delle distanze iniziali vedi sono tutte caratterizzate dall'essere molto simmetriche ad esempio sì decisamente e quindi un gioco che fanno alcuni matematici particolarmente perversi è quello di provare a trovare soluzioni periodiche forse la più semplice è quella centrale quella con i tre pianeti che si inseguono però diciamo in quest'orbita circolare quelle masse sono evidentemente tutte e tre uguali lo capisci perché sono perfettamente simmetrici devono essere uguali per forza poi ce ne sono anche alcuni simili vedo sì ce ne sono a destra giochi su proprio si può andare avanti all'infinito quindi questo è quello che volevo dire il problema dei tre corpi che adesso è noto per la serie è effettivamente un esempio importante di sistema caotico che a differenza del doppio pendolo ci riguarda direttamente e quindi ci ha portati a sviluppare tanta matematica per affrontare sistemi caotici ci ha portati a sviluppare metodi numerici per approssimare l'evoluzione nel tempo dei sistemi caotici quanto più possibile ed è quello che applichiamo anche nel caso nel meteo perché la dinamica meteorologica ed è qui che naturalmente volevo arrivare è una dinamica caotica ecco qua questo lo sappiamo da tanto tempo questo lo sappiamo da tanto tempo ed è la ragione per cui è matematicamente impossibile prevedere il meteo troppo in là a meno di avere computer esponenzialmente più potenti questo cosa vuol dire adesso te la faccio proprio in modo grezzo ma col tuo computer puoi prevedere il meteo a dieci giorni diciamo cosa vuol dire che hai bisogno di computer esponenzialmente più potenti che per passare da dieci a undici devi o ben raddoppiare o triplicare o comunque moltiplicare di un certo fattore diciamo due per semplicità ma non è necessariamente due la potenza del tuo computer per aggiungere un altro giorno devi moltiplicare di nuovo per aggiungere un altro giorno devi moltiplicare di nuovo quindi non devi aggiungere pezzi devi moltiplicare quindi aggiungere un giorno può voler dire magari decuplicare la potenza di calcolo aggiungere un altro giorno vuol dire decuplicarla di nuovo questo vuol dire crescita esponenziale quindi è una roba difficile piccoli guadagni nei tempi di previsione corrispondono enormi passi avanti da un punto di vista computazionale questa idea del meteo come sistema caotico non è naturalmente mia non è recente viene da lavori che abbiamo dalla seconda metà del ventissimo secolo un nome chiave è Lawrence Edward la conosco anche io ce ne sono tanti però di Lawrence alcuni scrivono Lawrence con la T TZ e altri senza la T allora c'è un Lawrence che è quello delle trasformazioni di Lawrence della relatività speciale c'è un Lawrence che è l'etologo che si occupava di e c'è quello è pubblicato da Adelphi in Italia e c'è Lawrence quello del meteo che è senza la T ok Lawrence ha scritto un modellino della convezione termica nell'atmosfera ok quindi della maniera in cui tu sai che hai l'aria calda in basso l'aria calda va verso l'alto quella roba lì ok come si muovono le masse d'aria nell'atmosfera e ha scritto un modellino enormemente semplificato facendo un sacco di assunzioni un modellino che non voleva descrivere tutta la complessità dell'atmosfera ma magari catturare qualcosa e ha scoperto che già così già considerando tre quattro variabili quindi l'aria calda che si può muovere di là o di là sostanzialmente tutta densa una roba aveva il gradiente di temperatura in due direzioni più il tasso di convezione queste cose qua adesso non è così importante e studiando come queste cose cambiavano nel tempo ha trovato un sistema caotico ha trovato soluzioni o almeno in certi regimi dei parametri perché hai tre parametri che ti dicono un po' come si comporta l'aria quanto è viscosa quanto è densa quanto tutte queste proprietà del fluo non importa e per certi valori di questi parametri hai soluzioni caotiche adesso te ne mostro una quindi particolarmente sensibili alle condizioni iniziali te ne mostro una spero si veda bene adesso te la perché è particolarmente bella e questa è un'immagine che alcuni avranno visto ma io provo a mostrarvela lo stesso dimmi poi se si te l'ho aggiunta in studio dimmi se si vede bene queste sono configurazioni adesso all'inizio sarà molto molto poco visibile ma la la pallina le palline passano tante volte quella pallina rossa e quella pallina blu che adesso sono quasi sovrapposte per questo che lampeggia sono due configurazioni meteorologiche diciamo ok legate a come si muove l'aria nello spa quindi tu sai dove è il puntino sai come si sta muovendo l'aria calda nell'atmosfera non è così importante la cosa importante è che siamo partiti da condizioni iniziali praticamente identiche e io questo l'ho fatto a rallenti l'ho fatto a rallenti quindi quando tu vedi un pallino muoversi quando tu vedi il pallino muoversi sai che c'è un moto dell'aria nell'atmosfera no? e la cosa interessante è che in questo momento il pallino rosso e il pallino blu sono ancora praticamente identici no? sì e non abbiamo ancora avuto divergenza è come quando i due pendoli erano poi davvero fermami se non sono chiaro perché qua non stiamo vedendo stiamo vedendo una rappresentazione dei parametri e quindi stiamo vedendo i nostri parametri meteorologici stanno cambiando ma vedremo anche questo appunto è stato fatto super rallenti perché avevo bisogno di tempo per raccontare quello che c'è attorno ma vedi che stanno divertendo ma erano partiti proprio da configurare si le appreggiavano no? che se ne vediamo un pezzo o un anno in questo momento non abbiamo più alcun punto di somiglianza tra le due e le configurazioni iniziali erano sostanzialmente un soffio d'aria in più da qualche parte certo quindi proprio particolarmente rilevante microscopica piccola piccola nota di colore quello che state vedendo disegnarsi tra l'altro mi permetto programmato dal sottoscritto che non sono un grande che non è un grande programmatore ma che no lo dica lo dica poco forza qualcosina ha dovuto imparare quindi è una una bella forma d'arte disegnare attrattori strani di Lawrence che si chiamano proprio attrattori strani questi disegni che magari da qualche parte avete visto questa cosa qui io credo che Lawrence stesso abbia coniato il termine è ciò a cui ci riferiamo col nome di effetto farfalla l'idea questa l'idea era il battito d'ali di una farfalla da qualche parte appunto una piccola perturbazione può produrre un tifone dall'altra parte del mondo appunto fammelo bloccare eccolo così appunto un'enorme perturbazione dopo abbastanza tempo no questa era un po' l'idea di che poi ovviamente è un'approssimazione perché nel mezzo succederanno così tante altre cose che distruggono quella perturba ci sono perturbazioni molto più importanti del mezzo che entrano e quindi è molto difficile che la perturbazione della farfalla abbia tempo di crescere diventare un tifone ma questo ti dice che la situazione è peggio è meno prevedibile ancora di non è meglio quindi il meteo funziona sostanzialmente così ed è la ragione per cui è difficile da prevedere ora il clima ecco il clima per fortuna è un po' più prevedibile banalmente perché si tratta di una grande media sui dati meteorologici ok e quando tu prendi tanti 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 dati che si muovono in modo caotico e fai una bella media tipicamente hai una cosa un po' più prevedibile ok quindi questo è quello che succede col clima perché le perturbazioni un po' si annullano a vicenda no queste cose si muovono in modo caotico se ne hai tante un po' un andrà di qua un andrà di là un andrà di su un andrà di giù è un po' la differenza che intercorre fra avere un bicchiere d'acqua e dire quest'acqua a zero gradi congela ok diventa e quello è come parlare del clima parli dell'atmosfera collettivamente studiando dei parametri tipo la sua temperatura no che catturano una miriade di fenomeni in una media e qui parli del bicchiere d'acqua oppure seguire le singole molecole d'acqua e dirti quando e che due specifiche molecole si metteranno in che configurazione in che cristallo no quello è come il meteo ok quindi quando ci chiediamo perché il clima è prevedibile e il meteo no la risposta è per la stessa identica ragione per cui sappiamo che l'acqua ghiaccia a zero gradi ma non sappiamo prevedere quale molecola specifica sarà in quale punto specifico del cubetto di ghiaccio legato a quale altra molecola ora una piccola nota a margine e anche qui ti tolgo questo perché ti mostro un altro piccolo video così poi ceriamo il discorso e se ci sono alcune domande arriviamo alle domande preparate le domande io vi avviso ogni volta ve lo dico molto bene ora c'è un tema che esce spesso il discorso non ancora non ancora attorno alla crisi no no facciamo la magia perché questo è tutto è tutto improvvisato è tutto improvvisato e ti ringrazio per la fiducia tra l'altro perché non hai voluto vedere sta roba in anticipo noi diciamo spesso che aumentando la temperatura media del mondo aumentano i fenomeni meteorologici estremi no i fenomeni meteorologici estremi a questo punto li capiamo sono un po' come quando i pendoli iniziano a fare pazzie ok e la temperatura del mondo non è altro che una misura dell'energia media che c'è nell'atmosfera ok quindi se tu alzi la temperatura stai aumentando l'energia media del tuo sistema e lo stesso vale per i pendoli ora che abbiamo l'analogia del pendolo doppio possiamo usarla se tu metti più energia nel pendolo doppio hai più comportamenti caotici e imprevedibili e cosa vuol dire mettere più energia nel pendolo doppio o dare una spinta alle tue palline oppure farle partire da più in alto ora essendo che la spinta era un po' difficile da mostrare io qui ti ho animato sei pendoli doppi che partono da altezze progressivamente maggiori per farti vedere come partire da più in alto quindi avere più energia nel sistema produca più più comportamenti caotici ok nello stesso modo in cui avere una temperatura media più alta più energia nel sistema atmosfera della terra produce più fenomeni meteorologici caotici imprevedibili estremi quindi adesso lo possiamo aggiungere ok vedi in alto abbiamo sono partiti da mi pare 30 no sono 60 75 90 gradi e sotto abbiamo 105 120 e 135 quello verde che è già totalmente impazzito è quello da 130 adesso guarda ve lo faccio ripartire se provate a seguire quelli in alto 60 75 90 e poi 105 120 135 gradi rispetto alla verticale se guardate quelli in alto quelli in alto soprattutto quello giallo è sostanzialmente prevedibile non fa cose strane si pendoleggia fa il pendolo fa quello che lo aspetti da un pene anche quello arancione dove non sarebbe fiero di lui vedi quello rosso ci mette un attimo ci ha messo un attimino in più ma si è come si dice va nel caos e quelli sotto ci vanno sostanzialmente subito questo è l'effetto di aggiungere energie questo è un comportamento abbastanza universale non universale perché poi ci sarà il sistema caotico in cui avere più chiaramente abbastanza comune si è abbastanza comune abbastanza universale e possiamo usarlo come euristica per quello che succede nei sistemi di nostro interesse adesso tenendolo fisso sul punto d'arrivo vedete la differenza tra il disegno delle traiettorie in quello giallo e in quello verde ok dove si è mosso il punto è che finché si tratta di pendoli doppi non è un problema quando quei punti nelle traiettorie sono il vento la temperatura la quantità di pioggia e la grandine e lei non è capisci che muoverti come avversi che si generebbero praticamente si capito è un po' quello il gioco è davvero un po' quello il gioco e con questo secondo me possiamo chiudere con un naturale invito a a preoccuparsi del cambiamento climatico per avere un mondo più simile al pendolo giallo che al pendolo verde ora se abbiamo qualche domanda magari rimuovendo questa cosa ragazzi domande perché una avevi già risposto mentre parlavi per aver riconosciuto direttamente il ragazzo che l'ha scritta però procedere con le domande noi siamo qui a fateci sapere se è tutto chiaro ad esempio ma quindi scusa una cosa ora ti dico per vedere se ho capito cioè praticamente quindi se noi andiamo avanti con questa situazione e quindi ovviamente la situazione in cui ci sono delle temperature molto alte cioè siccome è un sistema caotico i fenomeni avversi saranno sempre più forti più caldo fa praticamente più la temperatura è alta più la temperatura media del mondo si alza ok questo è molto importante noi stiamo parlando di temperatura media del mondo questi fenomeni avversi locali perché sempre il discorso globale versus locale il bicchiere d'acqua o la singola molecola d'acqua aumentare l'energia del sistema globale localmente può anche tradursi in un congelamento completo temperature molto basse perché i tuoi vari pendoli doppi tu puoi pensare al meteo in un punto dell'Italia come un pendolo doppio quello in Inghilterra come un pendolo doppio quello in Francia come un pendolo doppio andranno un po' dove vogliono e ogni tanto andranno anche a temperature molto basse o temperature molto alte aumentano le fluttuazioni e questo è chiave perché quando pensiamo al cambiamento climatico noi pensiamo all'aumentare delle temperature ma in realtà la cosa più preoccupante è perché se aumentasse solo di un grado e mezzo la temperatura ovunque punto sarebbe un problema sarebbe un problema ma fino a un certo punto fino a un certo punto quello che ci deve preoccupare davvero e dico preoccupare non nel senso di farsi venire l'ecoansia ma di ok io tendo comunque essere un ottimista a non avere condizione di quello che ci aspettano una cognizione lucida ma proprio per fare quello che serve non per disperarsi e non per farsi abbattere non per dirsi non facciamo più figli nel mondo che brucia no no semplicemente per dire ok no fermiamoci un attimo e prendiamo questa cosa con la dovuta serietà quello che ci deve preoccupare dicevo sono è l'aumento della variabilità quindi il crollo della nostra capacità di prevedere il futuro quindi con l'aumentare delle temperature medie si riduce il nostro tempo di previsione e io non giocherei alla rincorsa dire vabbè ma tanto i nostri computer diventeranno più potenti perché abbiamo detto che abbiamo bisogno di computer esponanzialmente più potenti per aumentare significativamente il nostro tempo di previsione quindi non saremmo mai capaci di giocare all'inseguimento peraltro ci sono due domande intanto poi c'è anche Meruem che ti fa tantissimi complimenti e ha detto che non ha domande ma ti ringrazia per riuscire a parlare di argomenti così complicati in maniera semplice anche per noi comuni mortali si vede che la passione si vede la passione che mette è in quello che fa ovviamente io leggo anche i complimenti Davide lo so che un po' di imbarazzi magari come me però non fa niente va bene sei tu allora ci sono due le domande vuoi che te le leggo insieme o prima facciamo una e poi procediamo quella che ti piace di più dai vai da quella che ti piace di più e poi allora una non l'ho letta quindi in realtà ti leggo la prima perché parliamo di computer appunto i modelli meteorologici sono un tipo di modelli che potrebbero beneficiare di computer quantistici allora parto dal parte dal presupposto che non mi occupo di questa cosa quindi non lo so ok non lo so noi siamo abituati su questo canale non lo so c'è posso controllare naturalmente è una cosa che ho visto passare ogni tanto quest'idea ma onestamente poi posso sbagliarmi c'è sempre il rischio che si tratti un po' di hype sempre il rischio che si tratti un po' di hype quindi non che io sappia diciamo così con un giusto riservo non che io sappia perfetto poi l'altra domanda è anche se non c'entra con i sistemi caotici ho letto di questa ipotesi dove si dice che l'universo non è al suo livello di energia più bassa ma se da qualche parte scendesse a quel livello si creerebbe una bolla che contagierebbe tutto l'universo alla velocità della luce praticamente verremo polverizzati e rimarrebbe solo qualche atomo di idrogeno qui e lì questo è un rischio reale oppure è solo una fantasia dei fisici più spinti tra virgolette no no è un rischio reale fammi prendere un foglio di carta è un rischio reale in questo modo prendo un foglio di carta aiuto allora ferma è una delle ragioni per cui dobbiamo studiare meglio la fisica delle particelle e costruire nuovi acceleratori ora noi abbiamo parlato del campo di Higgs ok tu sai abbiamo detto spesso che la natura si mette in configurazioni stabili di minima energia cerca i minimi dell'energia e allora noi possiamo disegnare adesso faccio molto velocemente ci metto un minuto tranquillo il potenziale di Higgs adesso non è proprio così però facciamo capirci ok lasciate stare cosa ci sia come una valle col nostro bel campo di Higgs che sta allo stato di minima energia ok più su vai più energia c'è ok ora noi conosciamo la forma di questa energia di questo potenziale come si chiama il potenziale è quella cosa che ti dice quanta energia hai in varie configurazioni ok quindi modificando il tuo campo tu vai a livelli di energia più alti qua c'è la sto disegnando l'analogia della pallina in una valle ok noi sappiamo che lì attorno il potenziale lì c'è proprio un minimo cioè siamo in uno stato di minima energia ma se ricordi lo studio di funzione esistono i minimi locali e i minimi globali delle funzioni ok quindi noi non sappiamo se da qualche parte esista un minimo più giù tipo questo se un minimo più giù non esiste non c'è nessun problema se un minimo più giù esiste quindi una configurazione del campo di Higgs a energia più bassa poi questo magari ce lo lasciamo un'altra puntata ma in meccanica quantistica c'è una cosa che si chiama effetto tunnel in meccanica classica tu devi per passare da qui a qui e non c'è storia se sei in una pallina in una valle devi salire e scendere in meccanica quantistica può capitare che tu da qua salti qui passando attraverso la montagnetta nel nostro caso configurazione energia più alta è quell'idea che a volte dico per cui se tiri la pallina da tennis contro il muro può capitare che passi attraverso ok è quell'idea lì ogni tanto per la stessa idea se esiste un minimo più giù del campo di Higgs da qualche parte perché è una cosa è come se si tirasse un dado ogni istante in ogni punto dell'universo se lì il campo di Higgs salta a un minimo energia più bassa e qua chiudo se questo minimo energia più bassa esiste e ad oggi non c'è ragione di credere che esista né di credere che non esista quindi è bene studiarlo ancora per metterci l'animo in pace se succede da qualche parte quello che tu vedi è un completo riscriversi delle leggi della fisica perché cambiano le masse di tutte le particelle ad esempio perché cambia il campo di Higgs quindi come abbiamo detto dalle masse alle cose cambia le masse di tutte le particelle cambia la massa dell'elettrone del protone quindi collassa tutta la chimica collassa tutto quello che è fatto di chimica di atomi non ci sono più gli atomi non c'è più niente ok quindi viene distrutto tutto tutto questo succede in quel punto e poi in una palla che si allarga la velocità della luce caverai ok che da un lato mette particolarmente ansia perché siccome niente va più veloce della luce è una cosa di cui non puoi neanche accorgerti cioè te ne accorgerti perché si muove la velocità della luce tu immagina questa palla di nulla dentro cui la fisica funziona in modo diverso e gli atomi non sono stabili magari ci vorrà tantissimo tempo per produrre strutture diverse dagli atomi lì dentro perché la fisica è diversa che si espande la velocità della luce per fortuna e qua finiamo in positivo intanto non sappiamo se questa cosa sia effettivamente però non è un'ipotesi è un'ipotesi che viene studiata assolutamente il nostro universo si espande di espansione accelerata quindi se questa cosa succede se è possibile che succeda e se succede sufficientemente lontano allora l'espansione dell'universo fa sì che questa palla non ci raggiunga mai ah vabbè ok basta che succeda abbastanza lontano da far sì che lo stagione dell'universo un po' come un tapirulan questa continua a correre ma il tapirulan la tiene anche se va alla velocità della luce se è abbastanza lontana il tapirulan fa sì che non ci raggiunga mai poi non lo puoi sapere in ogni caso però questo è un po' il gioco top per cui certo è certo è che va approfondita va approfondita grazie a tutti grazie a tutti